Nozzano, bimbo di 10 anni, muore dopo un arresto cardiaco. Inutile il trasferimento d'urgenza in elicottero al Meier di Firenze. Sgombero Academy, bagarre in consiglio comunale, botta e risposta tra maggioranza ed opposizione sui fatti di San Cassiano a Vico. Intanto Claudio Polonia è tornato in libertà. Summer, record di biglietti venduti, già sold out, 7 concerti per il Festival Lucchese, staccati già a 142.000 ticket in prevendita. È il record assoluto. La vittoria nel Pineto per risalire ancora. Lucchese in Abruzzo, dove sabato alle 16.15 affronterà la matricola bianco-azzurra. Gorgone rilancia Fazzi e Magnaghi via ad un terribile tour de force con 5 partite in 18 giorni. Versilia Palavolo ci crede e riparte da una perugina. Dopo tre settimane di sosta torna il campionato di B2. Finora brillante protagonista, la squadra di coach Stefanini ospita il Marsciano e vuole disputare un grande girone di ritorno. Ben trovati con questa edizione del nostro telegiornale. Bene, lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura. In primo piano la cronaca. Nozzano Castello, un bambino di 10 anni, deceduto in seguito ad un arresto cardiaco. È stato inutile il trasporto urgente con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Meyer di Firenze. Partiamo da qua con il servizio di Egidio Conca. Tragedia a Nozzano Castello. Un bambino di 10 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco. Il dramma è scoppiato improvvisamente nel pomeriggio. A dare l'allarme al 118 è stato il padre che si trovava con il piccolo nella sua abitazione. Il personale della centrale operativa ha fornito telefonicamente al genitore tutte le istruzioni per l'immediata rianimazione del figlio in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso. Sono subito stati inviati sul posto l'automedica di Lucca e un'ambulanza della Croce Verde insieme all'elisoccorso Pegaso 1. Era già stato attivato anche l'OPA, l'ospedale pediatrico delle Apuane. Il bambino però in un primo momento aveva recuperato le funzioni vitali ed è stato quindi trasferito con Pegaso in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze con ricovero in prognosi riservata. Purtroppo però le condizioni sono di nuovo peggiorate ed in serata è arrivata la terribile notizia del decesso che ha scosso l'intera comunità di Nozzano. Ancora cronaca rubano in due negozi ma non si accorgono che sulla stessa strada c'è un posto di blocco ad Alto Passo. I carabinieri del radiomobile di Lucca hanno arrestato un 31enne ed un 28enne romeni senza fissa dimora e con precedenti di polizia e hanno denunciato un 42enne, anche lui romeno e senza fissa dimora, per il reato di furto ai danni di due attività commerciali. Quando i militari hanno fermato per un controllo in Via delle Cerbaie una Fiat Tipo con tre persone a bordo, nell'auto i carabinieri hanno rinvenuto un grande quantitativo di deodoranti e prodotti per la cura della persona per un valore di oltre 500 euro che i tre uomini non riuscivano a giustificare. I militari hanno rapidamente cercato, hanno rapidamente accertato che i prodotti erano stati rubati poco prima a due negozi distanti, poche decine di metri dal posto del controllo. Tigota è iperrisparmio casa, per i tre sono quindi scattate le manette. E torniamo sulla vicenda dello sgombero dell'impianto sportivo a San Cassiano a Vico, è botta e risposta in Consiglio Comunale. Bagar in Consiglio Comunale sullo sgombero dell'impianto di San Cassiano a Vico. La discussione si è accesa in seguito all'intervento dell'assessore allo sport Fabio Barsanti, che ha lodato l'operazione condotta dalle forze dell'ordine. Di diverso avviso, il consigliere PD Gianni Giannini, che nella sua raccomandazione ha criticato quella che ritiene sia stata un'azione di forza e un fallimento dell'amministrazione Pardini, ha affermato Giannini, che ha abbandonato la strada del dialogo senza guardare all'interesse dei ragazzi e delle famiglie che frequentano i campi Real Academy. Per Barsanti l'operazione, epilogo di un lungo tavolo di trattativa con la società, non ha fatto altro che ristabilire il principio di legalità, principio di cui, ironizza l'assessore, il PD si è sempre fatto porta bandiera. Con questa amministrazione non prevale l'arroganza, ma viene affermato una volta per tutte il principio di legalità. E l'imbarazzo è parlare con un partito che della legalità si è presentato alla bandiera e oggi si trova a difendere l'illegalità. Scene vergognose e intimidatorie, tuona il capogruppo dell'opposizione, Francesco Raspini. Quando un assessore, mentre interviene, si rivolge a un membro della minoranza per intimidirlo, solo perché io mi sono rivolto con lo sguardo al Presidente, è qualcosa che dice molto di lei, della sua cultura politica e di come intende il suo ruolo. Io penso che un'altra volta come... Consigliere, consigliere, consigliere... La minoranza ha quindi abbandonato l'assise prima della conclusione dei lavori, decidendo di riportare in commissione le emozioni e di non proseguire oltre con il Consiglio Comunale, visto il clima creatosi. All'indomani della seduta lo scontro politico non sembra placarsi, con un botte e risposta che prosegue a mezzo a notte stampa. Intanto è stato rimesso in libertà Claudio Polonia, il Presidente della Real Academy, che era stato arrestato e posto ai domiciliari al termine dello sgombro dell'impianto sportivo di San Cassiano a Vico. L'arresto è stato convalidato solo per l'accusa di resistenza pubblico ufficiale e non per interruzione di pubblico servizio. Polonia dovrà comunque ottemperare all'obbligo di firma fino al processo fissato per il 20 febbraio. Andiamo avanti, il Lucca Summer Festival è già record di biglietti venduti in prevendita. 142.000 biglietti venduti. Siamo sempre a febbraio, ma il Summer Festival edizione 2024 ha già raggiunto il record assoluto di ticket acquistati in prevendita. Mai in 27 anni la chermesse di Mimo D'Alessandro aveva riscosso un successo di pubblico così grande. A testimonianza che il Festival Lucchese è ormai in pianta stabile uno degli eventi musicali di maggior successo a livello nazionale ed oltre. In particolare sono ben sette i concerti del Summer già andati praticamente sold out. I primi due sono quelli della superstar britannica Ed Sheeran che si esibirà all'ex balilla negli unici due concertoni sotto le mura previsti per quest'anno, l'8 e il 9 giugno. Spettatori previsti per ambedue le esibizioni 40.000 per un totale complessivo di 80.000 persone. Poi ci sono cinque concerti in piazza Napoleone che hanno raggiunto il tutto esaurito o per i quali rimangono comunque pochissimi biglietti. Si tratta in ordine di apparizione degli Smashing Pumpkins, Lenny Kravitz, Calcutta, Rod Stewart e dei Duran Duran. Per questi ultimi i biglietti sono andati polverizzati in pochi giorni. Per ognuno di questi cinque concerti i biglietti venduti sono stati oltre 10.000. C'è ovviamente ancora tempo per migliorare il record del Sama al 2024 anche perché la lista degli ospiti, sono già 15, potrebbe allungarsi ulteriormente. Ma al tempo in arrivo, nelle prossime ore, la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle 20 di venerdì e per tutta la giornata di sabato. Torna intanto l'ordinanza anti-smog. Abbiamo sentito a questo proposito il parere dei lucchesi. Inquinamento da polveri sottili, nuovo sforamento e nuova ordinanza anti-smog che ferma i veicoli più vecchi e inquinanti. Ma è questa la soluzione per risolvere il problema? Lo abbiamo chiesto ai lucchesi. Sono provvedimenti tampone che probabilmente possono fare qualcosa nell'immediato però il problema più grosso è alla radice, a monte che dovrebbero essere risolti certi problemi soprattutto legati all'inquinamento. Il giusto può essere giusto, però non vedo risultati. I risultati non si vedono, non si sentono. Anche altre volte che sono fatte, anche per giorni interi, giorni e giorni, però il risultato è zero. Sono d'accordo a chiudere, ci vorrebbero forse anche misure più a lunga gittata. Ad esempio? Bisognerebbe cambiare le macchine, magari incentivi a facilitare perché non tutte si possono permettere una macchina. Queste cose qui, più l'inquinamento, vabbè. Tre le ordinanze scattate dall'inizio dell'anno che riguardano, lo ricordiamo, i comuni di Lucca, Capannori, Alto Pascio, Porcari e Monte Carlo. Rispetto ai provvedimenti del 2023, la fascia oraria di applicazione è stata ridotta di due ore e portata tra le 8.30 e le 18.30, mentre è stata ampliata la tipologia di mezzi sottoposti al blocco con l'inserimento degli Euro 3 diesel. Anch'io ho una macchina vecchia che va molto bene e quindi... Il presidente di Lib Dem Europei, Andrea Marcucci, annuncia il sostegno a Patrizio Andreucetti. È un ottimo sindaco, afferma Marcucci. Ha lavorato bene ed è riuscito a creare un rapporto diretto con tutti i cittadini del suo comune. Con il terzo mandato potrà completare il suo lavoro. Sono felice, ha concluso, della sua ricandidatura e spero che tutti i riformisti possano sostenerlo. Andiamo a Ponte Allabate, slitta ancora la chiusura ed è scontro Lucca-Pescia su via di confine. Slitta ancora la chiusura del Ponte Allabate sulla via Pesciatina a Collodi, che deve essere sottoposto a lavori di ristrutturazione. Qualche settimana fa l'apertura del cantiere era prevista per febbraio. Adesso si parla di marzo o aprile, ma il via all'intervento potrebbe slittare ancora più in l'asse e venisse accolta la richiesta di attendere la fine dell'anno scolastico. Comunque sia, c'è l'accordo per iniziare i lavori solo alla fine di quelli riguardanti la realizzazione dei marciapiedi in centro a Collodi. Intanto, non è stata ancora definita con precisione la viabilità alternativa che dovrà essere approntata al momento della chiusura del ponte, che è una struttura fondamentale per l'accesso al parco di Collodi e al polo cartario di Villa Basilica. O meglio, per i mezzi pesanti la soluzione c'è già. I tir dovranno utilizzare la via panoramica per andare verso Collodi e via delle cartiere, svoltando poi a sinistra sulla Pesciatina, per uscire. Il confronto, o lo scontro, riguarda invece le auto che arrivano o si dirigono verso Lucca. Le componenti lucchesi, cioè la provincia di Lucca e il comune di Villa Basilica, per evitare il passaggio obbligato delle vetture da Veneri, chiedono di introdurre il doppio senso di marcia in via di confine, soluzione ritenuta possibile anche dalla polstrada lucchese. C'è però il no del comune di Pescia, che la ritiene una soluzione impraticabile per la presenza delle scuole su quella strada. Decisioni definitive però al momento non ce ne sono. La Misericordia di Borgamozzano mette a disposizione 25 posti per il servizio civile. Per il servizio civile universale, come sempre, la Misericordia di Borgamozzano offre a tanti giovani del territorio l'occasione per fare una bella e formativa esperienza presso una delle proprie sedi ed attività. Il Bando 2024 è ancora aperto ed è rivolto a giovani da 18 a 28 anni. I posti disponibili sono per la Misericordia di Borgamozzano in tutto 25, nel settore dell'assistenza e dell'aiuto alla persona. Nello specifico 10 posti sono destinati alla sede operativa della Misericordia di Borgamozzano in via San Francesco per le attività sociosanitarie, 10 presso la RSA gestita dalla Misericordia al Convento di San Francesco, 3 per l'apertura e la gestione della biblioteca presente al complesso di San Francesco e infine altri due posti sono destinati ai servizi sociosanitari svolti presso la sede accreditata della Misericordia nella sezione Valditurri. C'è stata già una buona risposta al Bando aperto dalla Misericordia con un buon numero di domande, ma ci sono ancora posti disponibili. C'è tempo fino al 15 febbraio per presentare la domanda. Sono gli ultimi giorni perché le domande del servizio civile scadono il 15 febbraio. Abbiamo già avuto una discreta risposta da parte dei giovani, però i posti che abbiamo a disposizione sono 25 e quindi siamo a fare appello ai giovani che colgano questa opportunità di fare servizio alla Misericordia di Borgamozzano dove c'è un ventaglio di opportunità e anche credo ci si fa una bella esperienza. Gli uffici della Misericordia sono a disposizione per fornire informazioni e per supportare i giovani nella compilazione della domanda. Per info si può telefonare al numero 0583 80731 oppure si può scrivere a infochiocciolamisericordiaborgo.org Tempo di carnevale, aumenta però la spesa per mascherarsi. Caro carnevale, quanto mi costi? Secondo l'Osservatorio nazionale Feder Consumatori, le spese legate alla festa più allegra dell'anno sono aumentate complessivamente del 5% rispetto al 2023. Gli aumenti più elevati si registrano per i trucchi e per l'acquisto dei costumi. In particolare il prezzo medio di una maschera si attesta quest'anno intorno ai 55 euro per un adulto e ai 50 per un bambino, rispettivamente il 6 e l'8% in più rispetto al 2023. Rincari anche per gli accessori indispensabili durante corsi e sfilate. Più 3% per la bomboletta spray che sale a 3 euro e 30 centesimi più 1% per i coriandoli che nel sacco da un chilo raggiungono i 4 euro e 95 centesimi mentre resta invariato a 3 euro e 50 il prezzo delle intramontabili stelle filanti. Ancora più significativo il balzello per il make-up. Il costo di un kit completo si aggira sui 27 euro, vale a dire il 12% in più dell'anno scorso. Stando ai numeri di Federconsumatori, a conti fatti, la spesa totale per un adulto si aggira così intorno ai 100 euro. Una cifra che sicuramente può essere rivista a ribasso, armandosi di ago e filo e muniti di un po' di fantasia e impegno, come i viareggini sanno bene. E con questa notizia chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale. Una breve pausa e subito dopo la nostra pagina sportiva.